Ragazzi, un saluto a tutti. Allora, questo sarà un video diverso dal solito da tutti quelli che sono usciti fino ad ora sul canale perché parliamo di tecnologia e di alcune applicazioni e alcuni servizi web che sfrutta questo tipo di tecnologia ovvero il cross device. Il cross device che attualmente noi oggigiorno chiamiamo semplicemente sincronizzazione tra dispositivi. Quindi ragazzi, dopo la sigla vi spiegherò un po' come è nato questo cross device e magari vi faccio anche qualche esempio di applicazione che sfrutta questo principio. Quindi, sigla! Allora ragazzi, cross device. Come è nato questo cross device? Come è nato questo tipo di tecnologia? Allora, la tecnologia del cross device è nata da quando sono nati gli smartphone e soprattutto da quando sono nate le applicazioni perché questo cross device cosa fa in pratica? Va a sincronizzare i dati tra dispositivi mobile e dispositivi desktop indipendentemente dal loro sistema operativo. Quindi che tu abbia un Windows, che tu abbia un Android, che tu abbia un Mac possiamo scaricare questa applicazione, inserire il nostro account e fare semplicemente il cross device ovvero sincronizzazione tra i vari dispositivi. E questo tipo di tecnologia dà proprio questo tipo di esperienza anche di personalizzazione e credetemi, continua ancora ad espandersi questo tipo di tecnologia tra i vari servizi che principalmente sono nati solamente come servizi web e magari, chissà, in futuro quei servizi web che ancora oggi sono tali possono sfruttare questo tipo di tecnologia ed essere sincronizzati anche su altri dispositivi indipendentemente dal sistema operativo attraverso delle applicazioni sfruttante questo tipo di principio. Quindi ragazzi, cos'è semplicemente questo cross device? Il cross device non è altro che la sincronizzazione attraverso un proprio account che consente di sincronizzare i dati su tutti i dispositivi indipendentemente dal sistema operativo in uso. Adesso facciamo alcuni esempi di cross device ovvero quei servizi web che principalmente erano nati solo come Italia, ovvero solo come servizi web ma si sono trasformati con la tecnologia del cross device. Per esempio, partiamo da uno dei tanti che utilizzo anch'io Canva. Canva è un servizio web online che consente di creare delle grafiche per i propri social network e caricarli tutto qua ragazzi. Questo Canva principalmente era nato solamente come servizio web ma da quando c'è stato l'avvento degli smartphone, l'avvento delle applicazioni, Canva ha sfruttato questo tipo di tecnologia ovvero il cross device. Quindi nel momento in cui noi la andiamo a scaricare sul nostro dispositivo mobile inseriamo il nostro account ed ecco qua che viene fatta la sincronizzazione dal servizio web perché l'applicazione va a recuperare i dati dal servizio web online e automaticamente fa il cross device ovvero sincronizzazione e arriva sul nostro dispositivo mobile. Lo stesso principio vale anche per quelle applicazioni desktop ovvero Windows, Mac quindi una volta che si scarica l'applicazione, una vera e propria applicazione senza passare dal servizio web online si inserisce il proprio account e che succede? La stessa cosa di prima quindi fa il cross device, va a recuperare tutti quei dati sincronizzandoli proprio dal servizio web online portandoli anche su piattaforma desktop. Quindi il cross device uguale sincronizzazione vogliamo fare un altro esempio di applicazioni che utilizzano il cross device? Ok, parliamo di Outlook anni fa era nato solamente come servizio di posta elettronica online sempre da quando c'è stato l'avvento degli smartphone, delle applicazioni è stata sviluppata l'applicazione quindi la sincronizzazione attraverso il nostro account una volta scaricato sul nostro dispositivo mobile e la posta veniva sincronizzata anche lì perché poi questo cross device le informazioni venivano prese dal servizio web, dai server web e passati sul nostro dispositivo mobile la stessa cosa anche per il desktop quindi Outlook anche per il desktop senza passare dal servizio web il vostro account succede questa sincronizzazione ovvero questo cross device quindi va a prendere i dati da server e automaticamente visibili sul vostro computer quindi devo dire che è un'esperienza che va anche a portare personalizzazioni tra i dispositivi perché esiste anche questo e questo tipo di tecnologia sfrutta l'identificazione anche del dispositivo e dell'intelligenza artificiale quindi ragazzi vogliamo fare altri esempi? prendiamo un altro esempio per esempio non so Spotify Spotify era nato sempre come servizio web online di ascolto di brani musicali online sempre con l'avvento degli smartphone e delle applicazioni nato come applicazione installabile sui propri dispositivi mobile grazie a cross device inserendo il proprio account andava a recuperare tutte le playlist fatte tutti i brani ascoltati e automaticamente trasferiti sul vostro dispositivo mobile sempre ve lo ripeto la stessa cosa anche per l'applicazione desktop quindi si scarica l'applicazione desktop si mette il proprio account si fa questo cross device quindi va a prendere tutti i dati tutto quello che abbiamo ascoltato tutto quello che abbiamo creato dai server e lo trasporta anche sull'applicazione desktop quindi ragazzi ribadendo il discorso del cross device non è altro che la sincronizzazione tra i vari dispositivi e credetemi ragazzi questo cross device viene utilizzato da migliaia di applicazioni adesso viene uscita alcune tipo Google Drive OneDrive Evernote Keep e tanti altri servizi che sono servizi web online ma si sono trasformati si sono evoluti grazie all'avvento degli smartphone e grazie all'avvento delle applicazioni quindi detta brevemente cross device uguale sincronizzazione tra dispositivi ecco qua questo video lo volevo portare da un po' perché l'ho scoperta da un po' quindi mi sono un pochino informato su questa cosa e ho voluto portare un po' la spiegazione un po' alcuni esempi di cross device in modo un pochino più semplificato per chi non conoscesse questo tipo di tecnologia quindi quando sentite parlare magari da qualcuno qualche vostro collega da qualche vostro amico di cross device sappiate che non è altro una sincronizzazione tra i vari dispositivi dei vostri dati indipendentemente dal sistema operativo in uso quindi che sia un computer desktop che sia un portatile che sia uno smartphone che sia un Mac che sia un tablet indipendentemente dal sistema operativo potete sincronizzare i vostri dati quindi questo detto brevemente è semplicemente il cross device allora ragazzi io adesso voglio sapere qua in basso nei commenti se voi conoscevate questa tecnologia ovvero il cross device se sapevate quando è nato insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti se conoscevate questo tipo di tecnologia e se sapevate anche che oggigiorno viene chiamata semplicemente sincronizzazione quindi ditemi la vostra qua in basso nei commenti e qualora questo video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non lo avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale mi aiutate veramente tanto dopo esservi iscritti attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e non solo ragazzi condividete anche questi video perché mi aiutate veramente molto mi trovate anche su instagram chiocciola miticosnake e noi ragazzi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un nuovo video ciao ciao